Oggi ragazzi proveremo 7 nuove cose che nessun giocatore di Minecraft ha mai provato a fare E sono cose assolutamente segrete E sono scritte nel codice di Minecraft Sono molto curioso, quanto vuoi, di poter provare quindi questa novità Appunto all'interno del codice di Minecraft 1.17 Come notate sono tutte quante all'interno di queste casse Ma anche quelle blasfornes che in realtà sono di quegli oggetti che in Minecraft vengono un po' poco utilizzate Quindi per esempio ragazzi noi abbiamo un libro che ci spiegherà da cima a fondo cosa poter fare Quindi iniziamo subito Io sono il creatore del codice di Minecraft Vediamo se hai mai visto queste cose che ti mostrerò oggi 1. Proviamo a cuocere il diamante Ci servirà più avanti, c'è scritto Potrà servirti più avanti, ok interessante ragazzi Quindi come prima cosa ragazzi proviamo a cuocere il diamante per vedere appunto cosa succede all'interno di questo mondo Allora io non ho mai provato in generale in Minecraft a poter cuocere il diamante all'interno della blasfornes Però vediamo cosa otteniamo La polvere di diamante E nel libro ragazzi appunto c'era scritto che ci servirà più avanti Quindi già partiamo dal presupposto che cuocere un diamante ragazzi è una cosa molto strana Ma mi sono sempre chiesto Cosa sarebbe successo se noi avessimo avuto la possibilità di cuocere il diamante su Minecraft Quindi non otteniamo un lingotto Ma la polvere di diamante che ragazzi ci dà anche il recipe qua in alto Vediamo se possiamo per esempio ottenere C'è una crafting table da qualche parte Magari un lingotto in qualche modo Così no, non si può ottenere nessun tipo di lingotto Però c'è scritto che comunque più avanti ci servirà Va bene ragazzi Allora adesso con molta calma lasciamo qui dentro la polvere Qua lasciamo cuocere e andiamo avanti Passiamo con il secondo libro che si chiama Puff Ed è firmato dal creatore Ok interessante leggiamo Ora proviamo una nuova TNT che ho nascosto personalmente nel codice di Minecraft Stai molto attento Hai il permesso di utilizzare anche la creativa nel caso Ok ragazzi Quindi abbiamo una TNT che si crafta con diamante e coal E TNT al centro Allora facciamo così Prendiamo un tipo di oggetto alla volta Così ne craftiamo solamente una di queste TNT E ci prendiamo anche un bel flint and steal E vediamo cosa succede ragazzi Quindi il coal va messo a rombo Poi il diamante negli angoli Per favore non sbagliamo in questo modo E la TNT al centro Per ottenere la Bedrock TNT ragazzi Ok Interessante ragazzi Ci è stato detto anche quindi che possiamo utilizzare la Bedrock Intanto il diamante sta continuando a cuocere Però cosa succede ragazzi Se noi dovessimo provare a utilizzare quindi questa Bedrock Questa TNT di Bedrock Allora vediamo Innanzitutto osserviamo per bene la texture È una TNT grigia Appunto col colore della Bedrock Però osserviamo l'esplosione ragazzi Cosa succede in questo momento 3 2 Ok Ma Ha rotto i blocchi di grassa e queste robe Ma li ha trasformati tutti quanti in Bedrock Quindi in realtà Se voi ci pensate ragazzi È super utile come oggetto Perché Attraverso il core Il diamante E noi per esempio Magari per fare degli scherzi Abbiamo bisogno della Bedrock Per ottenere la Bedrock Visto che non si può rompere in Minecraft Possiamo ottenerla in questo modo Ok però Secondo me ragazzi Sono molto curioso di provare una cosa insieme a voi in questo momento Allora facciamo così Andiamo in modo da spettatore direttamente Qua sotto Verso il void Nel punto di un basso di Minecraft Per vedere se Questa Questa tenente di Bedrock Distrugge anche La Bedrock stessa Potrebbe essere veramente tanta roba ragazzi Come cosa Quindi scendiamo ancora di un livello Dovremmo essere molto vicini Quindi facciamo così Continuiamo a distruggere in questo modo Che sono molto molto curioso di vedere appunto Se possiamo distruggere la Bedrock Sarebbe ottimo Mi sa proprio di sì ragazzi Ora facciamo così Rompiamo anche qua Piazziamo la Bedrock Ad altezza La Bedrock tenente ad altezza a Bedrock E vediamo se appunto distrugge tutto Distrugge anche la Bedrock No vabbè ragazzi Quindi possiamo tipo creare i pozzi Di praticamente Void Dove far cadere i nostri amici Direttamente all'interno Bello Ragazzi Diciamo che è un bello oggetto Veramente Veramente Molto 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 Utile ragazzi Possiamo droppare tutto quanto qua dentro E possiamo proseguire Intanto qua Si sono formati altri 15 pezzi di polvere Di diamante Vediamo se per esempio Qua dentro possiamo creare Dei lingotti in qualche modo Blocchi così No Allora Non lo so Ci servirà più avanti Come ci è stato scritto ragazzi Nel libro Vediamo Allora Proseguiamo col prossimo ragazzi Vediamo Leggiamo Uh si chiama in un altro modo Questo libro Si chiama Puff Sempre firmato dal creatore ragazzi Vediamo Cosa vuole il creatore di Minecraft Oggi Questo crafting È molto pericoloso Lo mostrerai per la prima volta Al mondo Oggi In questo momento Cuoci la Bedrock E otterrai la polvere di roccia madre Che ti servirà per craftare Delle frecce pericolosissime Allontanati di molto da questa zona Scocca una freccia Contro un mob E osserva cosa succede Che non ci sia scritto Ok Ah Ragazzi stavo pensando E infatti qua c'è la polvere di diamante Che La polvere di diamante Che stiamo ottenendo qua dentro Serba come combustibile Per cuocere dentro la Blast Forneis Wow E sta cuocendo anche Super 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 in fretta Per quindi ottenere La polvere di roccia madre Quindi la Bedrock Remnant Quindi credo che sia una polvere speciale di Bedrock Ok E con questa polvere Noi dobbiamo craftare Delle frecce di Bedrock Che saranno molto pericolose Allora Utilizzeremo anche qua Sicuramente la creativa Perché Se è così tanto pericolosa Ragazzi Non so veramente Cosa aspettarmi Da queste frecce di Bedrock E in pochissimi secondi ragazzi Abbiamo ottenuto Ben Otto pezzettini Qua libro Lasciamo qua dentro Per poter craftare Quindi la nostra freccia Di Bedrock La Bedrock Arrow Allora ragazzi Sono veramente tanto curioso Vediamo Quindi cosa succede Cercando magari di colpire Un mob Non so se lo stilo o meno Però proviamo a colpire Quella The Power of the Sun Ragazzi Abbiamo distrutto il sole Scoccando una freccia Abbiamo distrutto il sole Ma a me sembra strano Che succeda solamente questo Però come notate Oh Abbiamo distrutto Veramente il sole In Minecraft Ma che cacchio Mi state dicendo La prima volta Che lo vedo così Wow Che figata Allora Ok Interessante 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 Ragazzi Proviamo a colpire Però sto un po' Sto punto Quel creeper là in fondo Che non abbiamo ucciso Ok Sta arrivando What Ma è un meteorito Di Bedrock No ragazzi Questa roba qua Io non l'ho mai Vista In Minecraft È leggendaria Sta cosa Voglio assolutamente Riprovarlo con voi Ragazzi Meno male Si è messo in creativa Perché era super pericoloso Però come notate Colpiamo il creeper E una volta Parte dal sole Distrutto Un meteorito Di Bedrock Che plana Sul mob Lo distrugge E in più Il meteorito Di Bedrock Si incastra Direttamente Nel terreno Wow Ragazzi Credo che questo crafting Qui Della freccia Di Bedrock Sia una Delle cose più belle Che abbiamo Minecraft In Minecraft C'è proprio parte Come notate Dal sole distrutto Per poi Atterrare Sul creeper E disintegrarlo E poi che figata Che sono tutte quante Queste pareccelle qua Come se fosse il fumo Della Bedrock Che cade Va a svanire piano piano Come ha fatto in questo momento La Bedrock Si incastra Nel terreno Wow Ragazzi Che figata Questi crafting Sono una roba Leggendaria A tutti gli effetti Ok Ottimo ragazzi Poi proseguiamo Urca Abbiamo distrutto tutto quanto Ma comunque Possiamo proseguire Qua c'è scritto Che è da fare per ultima Questa sfida qua Ok interessante Non apro neanche la cassa Non leggo neanche il libro Del creatore Perché non voglio fare Nessun tipo di spoiler Però proseguiamo Quindi con questo qui Ragazzi Il punto quarto Il libro si chiama Il nuovo portale di Minecraft Dopo aver cotto La Bedrock Con la polvere di diamante Trasforma l'ossidiana In ossidiana di Bedrock Crea un portale E osserva Cosa succede Va bene ragazzi Ora quindi noi In questo momento Dobbiamo prendere Questa polvere di diamante Metterla a cuocere la Bedrock Oltre n'era altra Polvere qui di Bedrock Per poi Craftare Urca ragazzi Ci da un'armatura Full set In nederite Una mela Uno stack di mene d'oro E del flint and seal E tantissimo ossidiana Appunto Per poter craftare Quindi un portale Di nuova Ossidiana di Bedrock Interessante Allora facciamo così Cambiamo la spada di diamante Con quella di nederite Prendiamo l'ossidiana Aspettiamo che qua cuoce Tutta quanta questa Bedrock A sto punto quindi Craftiamo questa Mysterious Obsidian Quindi l'ossidiana Misteriosa Ok allora Sono molto carico Per vedere cosa Diamine Può succedere Con questa Ossidiana Che ragazzi Non ci ho fatto caso prima Ma è lo stesso blocco Che c'è qua dietro È vero Ok va bene Interessante Interessante come cosa Allora facciamo Il nostro amico portale Uno due tre Dovrebbe essere alto Giusto Quindi quattro Andiamo ancora qua Di tre In questo modo E poi concludiamo Uno due tre Ok il nostro portale Ragazzi è pronto Attiviamolo Vediamo Aiuto Che diamine Ma ha riportato Oh calma 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 Ho capito Cosa è successo Perché i piglin Stanno picchiando L'uglin Che è uscito dal nether In pratica Questo portale qui Ha ricreato il nether All'interno Dell'overworld C'è questo portale qua Di bedrock Di ossidiana Praticamente Ha trasportato Un 20x20 Di nether All'interno Appunto Dell'overworld Wow Qua abbiamo anche Un wither skeleton Ok Ragazzi Leggendario Possiamo dire Che è leggendario Tutto ciò Il portale è Una figata Atomica Ma andiamo Con l'ultimo crafting Di oggi Che è questo qui Non so neanche se è un crafting In realtà Però è da fare per ultimo C'è una recinzione Con della nether Quindi leggiamo Il libro si chiama Coccodet Questa è stata messa Per ultima Perché è un glitch Che farà crashare Il tuo minecraft Semplicemente Piazza un pollo Sulla nether E osserva Allora Ad essere onesti Ragazzi Non mettere un pollo Sulla nether Lo ammetto qua È una cosa che Non faccio mai In minecraft Cioè non ha senso Come roba Però Visto che mi è stato detto Di piazzare un pollo Osserviamo Cosa succede Piazzando un pollo Sulla nether Allora Non sta succedendo Assolutamente niente Abbiamo un piccolo problema Ragazzi Posso aver capito Cosa succedendo Se noi piazziamo un pollo Sulla nether Questo si moltiplica E da uno Siamo passati a due A quattro A otto Credo che adesso Saremo Sedici Quindi tra un po' Trentadue Quindi poi Oh cacchio Da un pollo Ragazzi Stanno moltiplicando Un sacco Quanti stanno diventando Come cacchio faccio Per fermarli Cioè ora dovrei Star qua E eliminare Tutti quanti Con questa spada Qua di diamante In quanto tempo In trenta secondi Ragazzi Abbiamo moltiplicato Oh mio dio Ma escono dalle fence Non ci credo Quanti sono No vabbè ragazzi Cioè da un pollo Abbiamo fatto una famiglia Di polli Che passano pure Attraverso le fence Mi sta laggando Minecraft Aiuto Abbiamo un piccolo Oh mio dio Mi sta laggando Minecraft Che storia Ragazzi Spero Che questo video qua Di Minecraft Vi sia Piaciuto Vi invito a lasciare Un bel mi piace Un bel commento Al schermo Che avete sgravato A scegliere Uno dei due video Qua davanti E dirmi Voi cosa ne pensate Di questo video Che è stato Super Iper Mega Divertente Da Mark è tutto Iscrivetevi E attivate la campanella Di nostre quante notifiche Scegliete uno Dei video Qua davanti Ciao ciao